Si presenta al concerto con un coltello lungo una spanna nascosto in un calzino, ma finisce nella rete della sicurezza dell'evento e per lui solo guai. Un ventenne è stato denunciato per essersi presentato i calcelli d'ingresso del Lama Festival di Romano Dezzelino, portando con sé un coltello a farfalla lungo 25 centimetri, occultato in un calzino. Gli approfonditi controlli con il metal detector hanno però smascherato il giovane. Si tratta di un ventenne romeno senza fissa dimora, pluri pregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio per possesso di armi e oggetti atti a offendere. Agli agenti accorsi sul posto ha dichiarato di portare sempre quel coltello addosso per difesa personale. È stato quindi portato in commissariato a Bassano e denunciato a piede libero per porto abusivo d'armi. Sempre al Lama Festival un altro giovane residente in Alto Adige è stato fermato con un coltello a serramanico lungo 20 centimetri nel borsello, in buona compagnia di tre spinelli alla marijuana. Anche per lui è scattata una denuncia per porto abusivo d'armi e una segnalazione per uso di droga.